Capitolo 24 Il giorno dopo, niente. Non che mi ignorasse, perché anche quello avrebbe avuto un significato. Sarebbe stata la prova che era successo qualcosa, che era cambiato qualcosa. E invece no. Mi trattò come al solito. Come se fossi ancora la piccola Belli, la ragazza con la coda di cavallo e in disordine e le ginocchia ossute che li inseguiva in spiaggia. Avrei dovuto immaginarlo. La questione però si poteva riassumere così. Sia che Conrad mi respingesse, sia che mi attirasse a sé, io mi comportavo allo stesso modo. Continuavo ad andargli dietro. Cam non mi telefonò per giorni. Non lo biasimavo. Neppure io lo chiamai, nonostante avessi voglia di farlo. Il fatto era che non sapevo cosa dire. Quando finalmente mi telefonò, non tirò in ballo la storia della festa, mi chiese di andare al drive-in. Risposi di sì. Subito mi preoccupai però. Andare al drive-in significava che avremmo pomiciato? Voglio dire pomiciato sul serio, con i finestrini appannati e i sedili reclinati? Perché la gente al drive-in faceva quello? C'erano le famiglie e poi in fondo al parcheggio c'erano le coppie che pomiciavano. Io c'ero andata con la famiglia, assieme a Susanna, la mamma e tutti gli altri, e poi con i ragazzi, ma mai come coppia, con un vero appuntamento. Una volta a Jeremiah, Steven e io andammo a spiare Conrad durante uno dei suoi tanti appuntamenti. Susanna diede il permesso a Jeremiah di guidare, anche se aveva solo il foglio rosa. Il drive-in era a meno di cinque chilometri di distanza e a Cousins Beach guidavano tutti, perfino i bambini sulle ginocchia dei genitori. Conrad si infuriò quando si accorse che lo stavamo spiando. Si stava avviando al chiosco dei Popcorn quando ci vide. Fu una scena piuttosto divertente. Mentre ci gridava contro, aveva i capelli tutti scompigliati e le labbra rosse e lucide. Jeremiah si sbellicò per tutto il tempo. Desideravo che Steven e Jeremiah fossero nascosti nel buio, a spiarci e sbellicarsi dalle risate. Mi sarei sentita più tranquilla, più sicura. Indossavo la felpa di Cam chiusa fino al collo. Sedevo con le gambe incrociate come se avessi freddo. Nonostante Cam mi piacesse, nonostante fossi contenta di essere con lui. Provai un desiderio improvviso di saltare fuori dall'auto e tornare a casa. Io avevo baciato un solo ragazzo e non era stato un bacio serio. Taylor diceva che ero una suora. Forse, in fondo in fondo, era vero. Forse avrei fatto meglio a entrare in convento. Non sapevo neppure se si trattasse di un vero appuntamento. Forse l'altra sera era rimasto talmente deluso da me che voleva soltanto rimanere mio amico. Cam girò le stazioni radio finché non trovò quella giusta. Tamburellando le dita sul volante mi chiese, ti vanno i popcorn o qualcos'altro? In effetti mi andavano, ma non volevo che mi rimanessero incastrati nei denti, perciò risposi di no. Cam era piuttosto preso dal film, visto il modo in cui a volte si avvicinava al parabrezza per vederci meglio. Era un vecchio film dell'orrore che, a detta di Cam, era piuttosto famoso, ma io non ne avevo mai sentito parlare. A ogni modo, io ero abbastanza distratta. Avevo la sensazione di guardare molto più Cam del film. Si leccava un sacco le labbra. Non si voltava a ridere con me durante le scene divertenti, come invece faceva Jeremiah. Se ne stava seduto dal suo lato, appoggiato alla portiera, il più possibile lontano da me. Quando il film finì, mise in moto l'auto. Pronta? Mi disse. Sentì un'ondata di delusione. Mi stava già riaccompagnando a casa. Non mi avrebbe portata a mangiare un gelato. L'appuntamento, se si poteva definirlo tale, era stato un fiasco. Non aveva provato neppure una volta a baciarmi. Non che io fossi stata sicura di lasciarlo fare, ma avrebbe potuto almeno provarci. Risposi. Fu sul punto di mettermi a piangere, anche se non sapevo perché. Tornammo a casa in silenzio. Cam parcheggiò l'auto di fronte. Io trattenmi un poco il respiro, la mano sulla maniglia della portiera, in attesa di capire se avrebbe spento il motore o se si aspettava che uscissi. Lo spense e poggiò per un secondo il capo al poggiatesta. «Sai perché mi ricordavo di te?» mi chiese d'improvviso. Era una domanda così inaspettata che mi ci volle un po' per capire di cosa stava parlando. «Ti riferisci alle Olimpiadi di latino?» «Sì». «Per il mio modellino del Colosseo?» dissi in tono semischerzoso. Mi aveva aiutato Steven a costruirlo ed era piuttosto notevole. «No». Cam si passò una mano tra i capelli. Evitava di guardarmi. «E perché eri molto bella. Voglio dire, la ragazza più bella che avessi mai visto». Risi. All'interno dell'auto sembrò una risata fragorosa. «Sì, certo. Come no, Sextus?» «Dico sul serio», insistette lui, alzando la voce. «Te lo stai inventando!» Non riuscivo a credere che fosse vero. Non volevo crederci. Con i ragazzi, qualsiasi complimento del genere terminava sempre con una battuta. Cam scosse il capo, le labbra tese. Era offeso dalla mia incredulità. Non intendevo ferire i suoi sentimenti. Solo che non vedevo come potesse essere vero. Pensai che fosse meschino mentirmi a riguardo. Io ero consapevole dell'aspetto che avevo all'epoca ed era impossibile che qualcuno mi considerasse la ragazza più bella che avessi mai visto. Non con i miei occhiali spessi, le guance cicciotte e il corpo da bambina. A quel punto Cam mi guardò negli occhi. Il primo giorno indossavi un vestito azzurro. Era tipo di velluto a coste. Rendeva i tuoi occhi azzurrissimi. Io ho gli occhi grigi. Lo so, ma quel vestito li faceva sembrare azzurri. Era per quello che lo indossavo. Era il mio preferito. Mi chiesi dove fosse finito. Forse imballato nella soffitta di casa mia con tutti i vestiti invernali. Ormai comunque era diventato troppo piccolo. Cam mi osservava con un'aria dolcissima, in attesa di una mia reazione. Aveva le guance color pesca. Deglutii forte e gli chiesi, perché non venisti a conoscermi? Lui si strinse nelle spalle. Eri sempre con le tue amiche. Ti osservai per tutta la settimana, cercando di trovare il coraggio di farlo. Quando quella sera ti ho vista al falò, mi sembrava impossibile. Bizzarro, eh? Cam rise, ma era imbarazzato. Piuttosto bizzarro, gli feci eco io. Non riuscivo a credere che mi avesse notata sul serio. Con Taylor al mio fianco, chi si sarebbe mai preso il disturbo di guardarmi? Sono stato sul punto di rovinare di proposito la mia orazione di Catullo per far vincere te, ricordò. Mi si avvicinò leggermente. Sono contenta che tu non l'abbia fatto, risposi. Allungai una mano a toccargli il braccio. La mano mi tremava. Quanto vorrei che tu fossi venuto a conoscermi. Fu allora che lui chinò il capo e mi baciò. Io continuai a restare aggrappata alla maniglia. L'unico pensiero che avevo in testa era... Peccato non sia stato questo il mio primo bacio.